in vacanza con i romani quali erano i posti di vacanza più conosciuti duemila anni fa dove andavano divertirsi famosi lontano dalla gente i ricchi dell'antica roma andavano a baia a sud di napoli il posto più ricco ed elegante per passare le vacanze politici uomini di cultura businessman chi poteva aveva sempre lì una villa possibilmente grandissima per passare l'estate e anche un po per dire a tutti vedete come sono ricco vedete quanto potete potere o io vedete quanto potere o io sì perché baia la fortuna di baia dipende dall'acqua calda l'acqua calda naturale già nel secondo secolo avanti cristo infatti a grandi terme e il secolo dopo a baia si cominciano a vedere le prime ville di ricchi romani con tutti i posti bellissimi sulla collina davanti al mare in poco tempo diventa diventa il luogo di vacanza più famoso di tutto il mondo romano a baia era impossibile non divertirsi il cielo azzurro il mare fantastico il tempo sempre buono l'acqua calda per chi cercava il piacere baia era il posto ideale ma a baia non si andava solo per fare i bagni si andava anche soprattutto per fare sesso qui avevano una villetta per le vacanze giulio cesare pompeo magno a marco aurelio locullo e cicerone e ancora caligola claudio nerone che nella villa di baia ha fatto uccidere la madre agrippina e ancora domiziano adriano che qui è venuto a morire nel 138 antonino pio comodo alessandro severo oggi di tutto questo restano soli muri di qualche villa sulla collina e anche nel mare ma ancora oggi se passeggiamo fra i giardini delle antiche ville viene da pensare chissà quante cose hanno visto questi muri e quante cose hanno da raccontare